Vorresti farlo tornare? Beh, allora adotta questa strategia di comunicazione efficace. In questo video sto per rivelarti la semplice strategia che utilizzo io stesso personalmente e suggerisco a chi è nel club riservato. Quindi rimani fino a fine del video. Se non sai chi sono io, sono Federico Picchianti, l'esperto numero uno in Italia di relazioni sentimentali, con oltre mezzo milione di followers tra tutti i social media, laureato in scienze ed educazione della formazione Concetto 10, faccio questo da sei anni e sono il fondatore della startup Club Riservato, una startup dedita alla trasformazione personale femminile e sentimentale. Quindi rimani fino alla fine del video e buona visione. Bene, bene, bene. Allora, iniziamo con un'altra domanda. Questa ragazza diceva, ciao Federico, io sono qui nel tuo club da qualche giorno, ti volevo raccontare la mia situazione, sono stata due anni e mezzo con questo ragazzo, mi sono lasciata da un mese nemmeno. Questo ragazzo mi ha sempre dato tante attenzioni, sono sempre stata bene, tranne l'ultimo periodo che mi aveva chiesto di andare a vivere con lui. Mi stavo un po' sopra e io mi sono sentito un po' impaurita, quindi iniziavo ad andare più, attenzione, a distaccarmi, cioè le mie priorità erano altre, anche perché avevo iniziato un nuovo lavoro. Non iniziavo a sentire queste mancanze, ma comunque non sapevo come risolvere la situazione, ho pensato e forse allontanandoci dover vi ritrovato un po' se stesso, avremmo potuto ritrovare quella voglia di stare insieme, così non è stato. Qualche giorno, dopo, l'ho visto che faceva lo scemo con una e non ci ho visto più, è insicuro. È insicuro, quindi hai filtrato un po' l'insicurezza di questo ragazzo. Il punto è che, essendo una relazione di due anni, si può lavorare o cooperare per risolverla prima di distruggerla, no? Il punto è che una relazione, una conoscenza di due mesi, e allora a voi che mi dà, lo conosco da due mesi, oddio, mi hai detto che non vuoi una cosa seria, ok, si fa un culo al prossimo. In un rapporto di due anni, tendenzialmente vuoi provare almeno a risolvere la cosa, no? Almeno è quello che suggerisco io. Per esempio, uno degli errori principali che non davo fare, sia da me che dai clienti, era proprio quello di troncare immediatamente la relazione o le relazioni insieme nell'immediato, invece di fare comunque un tentativo per sistemare o aggiustare, per poi potersi girare indietro e dire, ma sai che c'è? Io ho risolto la relazione, ho risolto tutto quanto, o almeno mi sono sforzata per farlo, ho provato a risolvere, e lui se ne ha sbattuto, quindi sto con la coscienza a posto. Sta ragazza dice, lui ha iniziato a sentire queste mancanze, ma io comunque non sapevo come risolve la situazione, l'ho visto che fa la scema, ok, e ovviamente sbagliando, io non ci ho visto più, mi ha cercato, dopo una settimana ha saputo che io ho richiesto il mio ex, e quel momento è cambiato, perché ha inserito un antagonista, no? Il principio di scarsità, l'antagonismo, la riprova sociale, no? Ci siamo visti qualche volta, continuavo a dire che lui era innamorato di me, ma che però non riusciva a fidarsi di me, e aveva paura che se fosse tornato con me avremmo ricominciato da capo. Io ho capito di aver sbagliato perché in quel periodo mi erano successe delle cose, anche a livello personale di famiglia, mi sono buttato giù e ho fatto mancare tante cose. Quando fai mancare delle cose a un uomo in una coppia, ricorda sempre che non è solo colpa tua o colpa sua se sta andando a deriva la coppia, è sempre colpa di entrambi. Poi la percentuale è 80% tua e 20% sua, sì, ok, ma sicuramente è sempre colpa di entrambi, se vi state lasciando o se sta andando male. Lui ora non si fida più di me, parla o vede questa ragazza, credo non ho la certezza, però mi scrive, ah, il mio cuore, il tuo, eccetera, eccetera, poi dopo due ore si dire indietro, mi tratta male, e il giorno dopo mi manda molte chiamate. Rispondo e mi dice, volevo solo dirti che ho bisogno di stare un po' per i fatti miei, io ho risposto che andava bene e lui asserisce comunque che fra me e lui non potrebbe funzionare. Detto questo, ho messo ovviamente le cose che ha scritto perché sono troppo specifiche, però le ho lette ma non le dico in video. Detto ciò, esco, parlo con un altro ragazzo, e quando lui vede questa cosa, in quanto siamo in un punto comune, quindi ci vediamo a distanza, quindi in un contesto sociale, lui fa la stessa cosa con quest'altra ragazza, io sono ovviamente sparita, non ho contact, cosa mi consigli di fare? Allora, c'è un problema principale, quando in coppia le cose non stanno andando bene, non stanno funzionando, il tuo obiettivo è quello di risolvere la biggest issue, sicuramente ti hanno risposto anche ragazze sotto, quindi ottimo, bene. La biggest issue, o comunque la big issue, è il problema principale che racchiude un po' tutto quello che è la tua vita, quindi problemi di coppia, eccetera. La big issue è quindi il tarlo più grosso, cioè l'ideale sarebbe questo, fai capire a questo ragazzo, guarda mi dispiace molto per quello che è successo fra me e te, se ti va magari possiamo parlarne a tavolino, quando vai a tavolino con lui, quindi se ti va magari ci vediamo a tavolino, ne parliamo davanti a qualcosa da bere, eccetera, eccetera, eccetera. Quando fai questa cosa, quindi questa operazione, idealmente vuoi dire a lui le seguenti parole, quindi prima di tutto accondiscendere al fatto che riconosci che tu hai sbagliato, eccetera, 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 quindi metti subito le mani avanti, fai capire a questo ragazzo che tu hai sbagliato, anche se non hai sbagliato al 100%, ma è soltanto una condizione, una situazione per, tra virgolette, far capire che sei molto disposta e ti stai quasi prostrando a tappetino, fammi passare il termine tappetino, attenzione, non sto dicendo che devi farlo sotto a. Quando hai fatto questo però, quindi hai fatto capire, oddio, sono mortificato, è tutto così, quello che gli dirai è, però ci tengo a dirti questa cosa, sicuramente ho sbagliato, abbiamo sbagliato entrambi, io soprattutto io ho sbagliato, quindi poi ti carichi pesantemente della responsabilità e dell'errore, e gli dirai questa cosa, c'è qualcosa in particolare che sicuramente non ha funzionato fra me e te, e questa cosa vorrei capire che qual è secondo te e qual è il problema più grosso e magari provare a pensare di poterlo risolvere. Lui ti dirà qual è il problema più grosso, tu gli dirai quale pensi che sia il problema più grosso e adopererete in combutta per risolvere o quello che dice lui o quello che dici tu, ma uno dei due deve essere risolto. Quando farete questa cosa, ovviamente tu gli dirai, ok, sicuramente questo è un problema grosso, se lo riuscissimo a risolverlo sicuramente pensi che potremmo stare meglio insieme e la risposta è sì, potrei tornare con te. Ok, nicely done. Vuol dire che se tu risolvi quel problema più grosso, teoricamente stai a posto con la coscienza. Il problema più grosso quale può essere? È tu non mi mandi il buongiorno tutte le mattine, che è una stronzata, non è sicuramente quello il problema più grosso, ma è un esempio per farti capire quale potrebbe essere l'issue più grosso, comunque il problema più grosso, e cosa poi bisogna fare per attuarsi e risolverlo in modo molto logico. Questo è quello che puoi fare in una coppia per dimostrare all'altra persona che vuoi rendere tutto funzionale. Se l'altra persona ha un consente intellettivo basso, o ha dei ritardi mentali, o ha dei deficit di, tra virgolette, è un soggetto psichiatrico, quindi è una personalità comunque che va alla fine della curva, quindi sta all'inizio e alla fine della curva a campana, dove sai che c'è la parte iniziale, quindi della deviazione standard, della parte finale, quindi ha una personalità abnorme che esce fuori dagli schemi, è probabile che non riesce a risolvere il problema. Questo io non lo so, ma se tu per esempio interagisci con un soggetto psichiatrico, il soggetto psichiatrico non si trova nella media, ma si trova alla fine della curva, o comunque alla fine, scusami, all'estremo, sopra o sotto, della deviazione standard, cioè funziona così, cerco di rendervela più semplice possibile. La linea di statistica, la linea generale, puoi immaginarti una campana, quindi la curva di Gauss, le persone, la maggioranza delle persone, quindi normali, poi mi passa il termine normale, poi nessuno è normale, sta in mezzo a questa campana, ok? Alla fine di questa campana, ci sono due fini, quindi l'inizio, la fine, quello che sia, ok? Chi sta a questi bordi, tra virgolette, è una persona comunque, che esce fuori dagli schemi della normalità, e potrebbe essere ingestibile, o avere dei seri gravi, grossi problemi, ok? Estremamente deficitaria, questo può essere un estremo narcisista, o un serial killer, o che cazzo ne so, questo dipende poi dalla persona in generale, però in linea generale, se ha quel tipo di personalità, non ti risponderà molto bene, ok? O se non è innamorato, ci sono tante variabili del perché un uomo, non ti sosterrebbe nel voler migliorare la relazione di coppia, ma comunque, questo è quello che puoi fare, se era due mesi di relazione, mandare a quel paese il tipo, è ok, ma in una relazione di due anni, è un peccato cercare di mandarla a quel paese, per problemi irrisolti fra di voi, per carenza di una comunicazione effettiva. Grazie. Grazie.